Di che cosa tratta il Decreto federale sulle cure mediche di base? Al momento in Svizzera, disponiamo di un'offerta di cure mediche di base buona e di qualità. Con cure mediche di base, si intende avere la possibilità di ricevere buone cure mediche in qualsiasi momento. Nel sistema attuale, il medico di famiglia svolge un ruolo molto importante, in quanto molto spesso è la prima persona di riferimento per i pazienti. Inoltre, la popolazione svizzera invecchia costantemente, quindi il numero di pazienti promedico di famiglia è in aumento. Nei prossimi anni, diversi medici di famiglia andranno in pensione senza aver trovato dei sostituti per il loro posto. Il lavoro negli studi medici individuali è poco attrattivo per i giovani medici, rispetto ad un lavoro in uno studio medico di gruppo, dove per esempio è possibile esercitare a tempo parziale. Allo stesso tempo, anche i requisiti per tutti gli altri operatori sanitari stanno cambiando. Che cosa cambierebbe? Se la nuova legge verrà approvata, la Confederazione ed i cantoni saranno obbligati a sviluppare ulteriormente l'offerta delle cure mediche di base e a prendere le misure necessarie per rafforzare il sistema del medico di famiglia, ciò ad esempio garantendo una giusta retribuzione ai medici di famiglia. In aggiunta con il nuovo articolo costituzionale, la Confederazione ha la possibilità di avere un influsso diretto sulla formazione e la formazione continua di tutti gli operatori sanitari. Per esempio, si potrebbero inserire regole uguali per tutti per quanto riguarda l'esercizio della professione. Inoltre, nelle università verrà promosso lo studio e la ricerca nell'ambito della medicina di famiglia. Oltre a ciò verranno promosse nuove forme di collaborazione tra i medici di famiglia e gli altri operatori sanitari. Quali sono gli argomenti dei favorevoli? Gli operatori sanitari verranno formati in modo mirato e uguale in tutta la Svizzera. In questo modo, il sistema sanitario rimarrà di alta qualità. Verranno promossi gli studi medici collettivi, che permettono una migliore collaborazione tra operatori sanitari. Quali sono gli argomenti dei contrari? L'attuale sistema sanitario funziona bene. Una modifica di questo sistema non è al momento necessaria. Non è legittimo che con questa nuova legge i medici di famiglia trovino un posto di lavoro migliore che altri medici. Se vuoi che il decreto federale sulle cure mediche di base venga accettato, vota sì. Se vuoi che venga respinto, vota no. Imposta ora per te e i tuoi amici la voto sveglia su easyvote.ch. Così non perderai più neanche una votazione. Grazie a tutti. Grazie.